Attivato da stamattina un altro punto tamponi a Caltanissetta, il drive che si trova in via degli Orti dietro il paracarelli. La postazione dalla quale si arriverà in macchina e non si dovrà scendere sarà attivata dalle 9 alle 18 soltanto per i positivi che devono effettuare il tampone molecolare o per i positivi quarantenati per controllo finale. I tamponi saranno soltanto per i pazienti positivi e per i pazienti con antigenico positivo e per i contatti stretti. Non è uno screening di massa ma soltanto un punto in più per snellire ed agevolare il lavoro del drive del Santeria che si occuperà di tutte le altre ragioni per le quali si dovrà effettuare un tampone.